Questa settimana entriamo nel vivo delle manifestazioni legate al Natale in tutta la provincia. Nella sala consigliare è stato presentato il calendario degli eventi di Mondolfo e Marotta, firmato dalle Proloquo in sinergia con l'amministrazione comunale e le associazioni del territorio. Una formula vincente che ad ogni edizione consente di arricchire l'offerta degli eventi e al contempo, come ha detto in apertura di presentazione il sindaco Nicola Barbieri di promuovere il territorio in ogni momento dell'anno. Ci fa davvero piacere perché questo è un momento non solo per richiamare l'attenzione sul Natale ma anche per promuovere tutto il nostro territorio. Quindi davvero ci fa piacere, ci crediamo e continueremo sempre di più ad organizzare eventi e iniziative in questo periodo. Si inizia sabato 7 dicembre a Marotta in Piazza dell'Unificazione con Insieme sotto un unico albero di Natale, organizzato dalla Proloquo in collaborazione con l'associazione Malarupta. Quest'anno durante l'evento natalizio si festeggerà anche l'Unificazione di Marotta. Saranno presenti anche le scuole che si esibiranno in piccoli concerti a cui faranno da eco spettacoli di magia e animazione d'eccezione. Il Natale è una festa per le famiglie, quindi noi abbiamo organizzato il 7 di dicembre insieme alla Proloquo di Marotta e al Comitato Pro Marotta Unita una grande festa per le famiglie. Quindi dalle 15.30 in Piazza dell'Unificazione ci saranno tanti eventi legati ai bambini con musica, con canti e poi la cinsone dell'albero di Natale che è il simbolo del punto del Natale. Si prosegue a Mondolfo l'8 e il 15 dicembre con il Natale più bello del Borgo più bello, evento collaudato organizzato dalla Proloquo Tre Colli con Avis Archeoclub e il sostegno dei commercianti locali nel cuore del centro storico con spettacoli dal vivo, mercatini artistici, concerti grazie anche al corpo bandistico Santa Cecilia e gli occhi puntati sulla famosa Corsa dei Birocini che da quest'anno diventa anche social. Birocini vengono visti un po' come la caratteristica dei nostri mercatini e che portano veramente tantissime persone del nostro comune ma anche dei comuni limitrofi ma fino anche a Gubbio a partecipare a questa gara che è veramente molto sentita, molto divertente, molto curiosa. Così come si riviverà l'emozione del presepe paese, il presepe vivente per le vie del borgo, il 26 e il 29 dicembre organizzato dalla parrocchia di Santa Giustina, ma il Natale 2019 si caratterizzerà anche per luminarie, l'accensione degli alberi di Natale e una collaborazione con la Proloquo di Urbania. Le Befane, più famose d'Italia, sfileranno a Mondolfo mentre i Birocini il 6 gennaio faranno bella mostra ad Urbania. Impegno quindi di Comune e delle Proloquo e delle associazioni a far sì che ogni anno si migliori l'immagine del territorio ed offrire eventi di qualità dove la magia del Natale si sposa con la storia, la cultura e la tradizione locale.